con oddio da perché è lì sotto la web avevo voglia di fare una certa referenza scusate ragazzi comunque non ha niente a che fare con la mina di oggi perché oggi dov'è l'audio porco schifo perfetto siamo su che non è una roba greca per dire godere no quella è una cazzata è praticamente sarebbe dio us molto originale in vita si sto giocando a questo ciocco perché me l'ha consigliato mio amico mi ha chiesto di portarlo sul canale e dato che è un bravo amico lo porto per te ciao amico non dirò il tuo nome perché magari non vuoi ora iniziamo col sfanculizzare tutto queste piccole persone diventeranno tue seguaci ma prima hanno bisogno del tuo aiuto ah si sono persone mi sembravano pesci si se raggiungono la spiace saranno al sicuro guddo e se non ho divinità poi modellare tenele in questo modo potrei salvare i tuoi seguaci è disabili è disabasso la game mi speravo fosse un idol che cazzo devo fare tocca tieni premuto il dito e trascina a sinistra i contorni possono essere trascinati i contorni possono essere trascinati si 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 ho capito mia donna è un limone ok che cazzo è si ma ho capito ho capito come fare trascina il terreno per creare un'isola che riempa il cielo è vero eh? ah andiamo ok facciamo così è morto l'audio poi eh 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 dai no ma fa schifo è un casino si eh copriamo questo punto e il cerchio lo dovrebbe coprire bene trascina il terreno verso l'alto ok sempre oddio puoi fare aprire le buche ho detto che puoi aprire le buche wow ci sono delle entrate che cazzo di gioco porco schifo ok non mi prendeva il touch madonna sembra uno skull trascina il terreno per svuotare il cerchio che cazzo devo fare si ho rifiutato la mia family friend da molto tempo fa ciotaro eh si basta quelle cioccio sdraffare vabbè che cioccio è un anime bello ma porco il diesel stavo per bestemmiare fortuna che non l'ho fatto eh addio toccati mi sta facendo una ammiata ceppa di steve eh dai per i piedini per i piedi di cherry scotti sbrigati madonna il bello è che non lagga almeno credo dai ce la sto facendo ok un po' lag speravo fosse un idol game sull'evoluzione della cosa umana della vita umana no è un pazzo il game se non vedo si stiamo giocando a minecraft arocco non mi sta piacendo questo gioco devo metterlo però lo faccio per te tizio homeworld trascina il terreno verso i tuoi seguaci per salvarli lo sa questo era solo un tutorial di merda cioè basta fare così mi sta sì sì tutto questo per farmi tirare una riga che cazzo queste qua ci sono sicuro non considerano il loro dio ehi ehi che sa perchè prega sull'acqua quella wow erico o baceri senza una cazzo senza una cazzo che cazzo devo fare is this gonna be a tactical game or something eh 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 con oddio da trascina due dita sullo schermo per seguire perchè due pol- fa schifo eccolo li madonna c'è una storyline c'è una storyline c'è una storyline scusate ci ho gridato ma è una roba magnifica nei giochi mobile sono bloccati i seguaci non possono arrampicarsi su terreni ripidi toccatini pronti va bene così i tuoi seguaci si ho capito si sono i miei due diti che scorreggiano wow è un'isola cercano un luogo dove insediarsi nella terra promessa con quest'area ma quest'area è troppo piccola i tuoi seguaci continueranno a cercare la terra promessa devo devo tirare il terreno cosa cosa devo fare sono bloccati a questo punto per aiutarli come sono bloccati fammi su mare che devo fare perchè adesso mi fa vedere un continente di basta ah devo fare il terreno che cazzo ne so io le cose si dicono gioco che gioco brutto sai che non mi dici le cose che potrebbe essere un gioco bello a scapito di quello che sto dicendo quanto siamo? sei minuti ok c'è un inferno comunque ho liberato un po' di spazio su mobizen ma quando dico un po' intendo un sacco ho messo un sacco di roba su scheda sim questo posto è troppo stretto non è adatto per l'insediamento continua la ricerca albero perchè mi vuoi? sgombra il blocco madonna ma che cazzo raga ma ma che gioco è? è un po' schifo eh senza offesa ma al mio amico sarà piaciuto perchè non ha chiesto vaffanculo la necessità eh per questo non ho consigliato perchè a lui piace ma eh eh devo fare solo quello devo solo togliere la sabbia sti tizi ok magari cos'è un po' troppo però cosa? dove? vuoi dire che sto qua non ha ancora attraversato? ma dai sto raga non mi sta magari è un bel gioco dico io magari è solo mobizenintelaga che rovina tutto ma sto qua ancora qua è ancora qui a non far niente e questo qua dove sto scavando non ci sto capendo non ce lo finisce qui per il tuo seguito c'era la toccata ma non senti non mi avevi detto che volevo fare roba con l'acqua ok facciamo un po' così col dito wow che belli i pixel della webcam ce ce la ce la ce la sto proprio facendo si togliamo la strada dietro ciò che ci siamo la terra promessa devi attraversare insomma non mi sono meno io voglio voglio io voglio fare una popolazione non voglio a togliere della sabbia cosa mi sta succedendo non sono ancora abbostanza potente bene ragazzi se non posso modellare il terreno come cazzo vado avanti vado devo tirare qua no non voglio fare così eh fammi spostare non posso spostare devo fare delle leone nel lago yey are you telling me that this is the whole world mi stai dicendo che questo è il mondo intero ma allora si che posso modellare sto terreno lo fammi usare qua dai è arrivato di lì però eh se mi fai zoomare non va bene è troppo brutto per essere la terra promessa ma che devo fare raga non si capisce niente di sto gioco ma lo sto provando assieme a voi cioè quali sarà potrebbe essere la terra promessa se il resto fa cagare cazzo ma sto microbo di sabbia sarà bellissimo voglio vedere tutto cermoriare se è una terra promessa perchè sto creando ancora sabbia ah no quell'isoletta ah eh 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 so ancora che ci sono solo un paio di palme e delle collinette sembra promettente tue seguaci adorano questo territorio ci sono solo delle palme in più e dell'erba perchè roccia si sta facendo notte i tuoi seguaci hanno bisogno di un riparo si arrivano i creeper se no quanto siamo di spreco della mia vita eh 10 minuti si si fa andare avanti ancora un po' devi rimuovere questa roccia per loro tocca e tieni premuto lì mandatevene via rocce che possono costruire un'abitazione in cui vedere osserva il contorno tenue si tratta di un appezzamento sabbia o na? stanno costruendo la loro prima abitazione oh yes the civilization yes boh ragazzi magari continuerò a fare video di sto gioco I have no idea honestly ok riparo costruttore ok però sono sicuro vogliono riprodursi ed espandersi hanno bisogno di altri appezzamenti su cui costruire a nessuno piace avere delle rocce fuori casa goodbye rocce goodbye rocce goodbye rocce questo indica che sono pronto a lavorare tocca tocca c'è il costo di mobile in mezzo e comunque si spostava con due dita tocca ma questo è un costruttore bene qui quindi madonna che velocità posso zoomare? oddio se posso zoomare ok ok sta diventando un idol game adesso a caso eh sono proprio idol perchè è tipo clash of clans tipo però sta diventando clash of clans con me con me che sono vivo eh 12 minuti ancora un 2 minuti ci già faccio quelli sono dei salmi pescati porco schifo eh questo seguaccio la vivo in questa nuova abitazione è così che deve aumentare la popolazione yeah che gioco emozionante gli abitanti si stanno ripropogendo prima nascono i produttori poi i costruttori riempiono l'abitazione eh non posso chiuderla perchè c'è cosa da venire usiamo un elemento per creare altri tre appezzamenti dove potranno costruirvi i tuoi seguaci questo è fottutato ma io volevo eh ehm devo sì poi ecco fatto ci sta un'altra cosa? aspetta ma andiamo vai lì crea una tenda brutta spezzamento grone 1 sì eh questa barra è di cara popolazione riempila per ottenere una ricompensa basta basta sono stufo sto gioco non mi piace non mi piace l'abbiamo provato assieme ciao non ci saranno mai robot super belli e viaggi su Marte che creano delle fabbriche su Marte magari ho paragonato questo gioco troppo a salto singolare se non credete basta però non mi sta più no per scherzi sto gioco non mi piace non è sarà non è per il lag ma in generale non mi piace che alla fine devi solo trascinare un po' e togliere della sabbia mettere della sabbia cioè e mettere delle abitazioni ogni tanto non mi ispira proprio lo so non è un idol game però cioè cercate di capire io mi sento qualcosa di più da sto gioco quindi ciao ragazzi questo video è stato non è stato è stato un una delusione per me questo gioco almeno senza offesa per cui me l'ha consigliato ci saluto ancora noi ci vediamo nel prossimo video questo video è uscito troppo lunghetto ciao ciao